Ecco il Via Andante, oggi 16 marzo 2019, si trova in Brianza, in questo luogo e per lo più vi dico anche la stazione della Brianza, eccola qui, Brenna Alzate è una stazione del 900, è molto bella, ci sono arrivati anche i Boy Scout oggi c'è la ferrovia binaria unica, c'è un sole stupendo eccola qui la stazione che si vede bene e poi vi dirò di più che una volta qua c'era un albero ora quest'albero non c'è più, però hanno messo qualcosa altro per attrarre l'attenzione in questa bella stazione del 900 di Brenna Alzate come con le Rue Delis è stato fatto nel 1888, è stato poi rimodernizzato dai volontari anche, è stato fatto un piccolo bar oggi per di più c'è anche l'acqua e questo è il bar che io sto entrando adesso tutto organizzato, ben moderno, che non entra l'acqua, con l'ucernario perfino, la doppia porta e questo piccolo bar che tra un mese lo aprono per poi io essere in grado, penso proprio di sì di servire ai clienti il caffè, il cappuccino, le brioche, il primo, il secondo e questa è tutta la soluzione di questo Rude qua che è stato, eccolo qua, come era prima era così, era così il Rude e poi è stato fatto dai volontari e man mano sempre in meglio col tetto che entra benissimo la luce dall'alto e con tanto lavoro sono riusciti a trasformare un piccolo fabbricato a ridare identità a una situazione che tempo abbandono hanno reso troppo fattiscente per immaginarlo come luogo nuovamente è bellissimo, bello, bello e il bar, vi saluto da Youtube della Bambini